La cosiddetta chiatta carceraria, la Bibi Stockholm, è ancorata a Portland, sulla costa sud-occidentale dell'Inghilterra. Il governo ha dato l'ok per l'accesso della stampa alla chiatta, che ospiterà fino a 500 richiedenti asilo nel Regno Unito. È il primo effetto del Migration Bill, dopo che il Parlamento di Londra ha approvato il discusso disegno di legge voluto dal governo di Rishi Sunak per frenare l'immigrazione. Potendo scendere liberamente dalla chiatta, gli immigrati non saranno certi in una prigione fluttuante, spiegano dal Ministero degli Interni britannico, respingendo le accuse di molte associazioni umanitarie.